Da Bolzano con Riccardo Tonetti, come stai intanto? Sto bene, sto molto bene. Oggi Fisintour siamo qui tutti insieme, un po' per la gente, però concentrati già per settimana prossima dove saremo in gara. A proposito, vi piacciono appuntamenti di questo tipo? Per me oggi è in casa, siamo più a Bolzano, quindi fa ancora più piacere e non dobbiamo spostarsi troppo. Comunque sì, sono sempre delle giornate importanti, anche per vedere un po' di persone, anche per trovarci tra di noi, nella Fisintour, persone anche di altri sport che non si vedono così spesso. Quindi io le trovo positive e anche divertenti. E l'ultima stagione che cosa ti ha lasciato? L'ultima stagione mi ha dato la consapevolezza di poter stare nei 30 in Coppa del Mondo con una certa continuità, quindi di far parte anch'io di questo circuito chiamato Coppa del Mondo di Ski. Prima facevo una manche qua, una manche là, però farne parte è poi un'altra cosa, quindi per me è anche un grande onore, mi sono veramente divertito e l'ultima stagione me la sono proprio goduta. Ti vedremo un po' anche in velocità? Ci proverò, sicuramente Gigante e Slalom sono le priorità, però qualche Super G saremo in partenza e anche le discese per le combinate proveremo a farlo. È tempo di puntare al podio Riccardo? È tempo di puntare al podio, mi hanno chiesto spesso gli obiettivi per quest'anno, l'obiettivo per Sölden anche, non è così facile, però vorrei essere più stabilmente nei primi 10 e perché no, le gare non si sa mai e un podio cerchiamo di agguantarlo. Grazie mille, bocca al lupo. Grazie, grazie a voi, ciao. Ciao.